Il Ministero dell'Economia è pronto a correggere il tiro. Parliamo della legge salva banche che di fatto ha mandato in fumo i risparmi di moltissimi cittadini aquilani che avevano investito in Banca Etruria, che in città, lo ricordiamo, ha due sedi, nel comune di Pizzoli e in Viale Corrado IV all'Aquila. La senatrice del PD Stefania Pezzopane si è fatta portavoce delle stanze dei risparmiatori aquilani presso il governo centrale e ha dichiarato che il Ministero è disponibile a tentare di ridurre gli effetti negativi sugli investitori più deboli. In Abruzzo, infatti, la situazione è gravissima. Basti citare la questione di Pizzoli, dove su 5.000 abitanti circa 1.000 orano i risparmi azzerati in Banca Etruria. La legge salva banche contiene provvedimenti importanti necessari ad arginare la crisi dei quattro istituti di credito, ma non si può farlo sulle spalle dei piccoli risparmiatori. Anche il sindacato UGL con il segretario nazionale UGL Credito, Piero Peretti, è intervenuto sulla vicenda. Il primo danno, dice Peretti, è quello inferto ai lavoratori che con il provvedimento subiranno tutti gli effetti nefasti del Job Act e del contratto a tutte le crescenti. Non dimentichiamo, infatti, che il mandato insito nel provvedimento stesso, oltre al risanamento con crude Peretti, è la vendita delle banche al migliore offerente, presumibilmente tagliando il costo del lavoro, obiettivo molto più facile con il Job Act e senza ricorso ai tradizionali ammortizzatori sociali del settore. In tutto questo, all'Aquila risparmiatori si sono riuniti in comitato. A Chieti, per la vicenda Carichieti, il Kodakons ha già lanciato una class action come azione risarcitoria in favore dei risparmiatori.